Il presepe vivente di Caltabellotta torna nel suo antico splendore dopo la pandemia e diventa un vero e proprio spettacolo all'aperto, con 60 attori diretti dal regista Marco Savatteri tra le vie del borgo. L'appuntamento è in programma il 26 e 27 dicembre ed il 5 e 6 gennaio, dalle 17 alle 22. Marco Savatteri, fondatore della scuola del musical di Agrigente ed autore di spettacoli in Italia e all'estero, firma la riedizione in forma teatrale di quel che è stato il primo presepe vivente realizzato all'interno di un borgo in tutta la Sicilia. 60 attori tra professionisti ed abitanti del luogo metteranno in scena il miracolo della natività tra le stradine del paese dove le vecchie casupole contadine scavate nella roccia sembrano la betlemme di 2000 anni fa e dove le degustazioni, macco di fave, sarsiccia e vino, pane e olio, ricotta, formaggio e olive, saranno stazioni di un percorso spettacolarizzato tra musica e luci. L'evento, inserito tra quelli di massima rilevanza turistica, dall'assessorato al turismo della regione siciliana, vede la collaborazione di tutte le cinque associazioni del borgo e ha come partner le vie dei tesori del cui circuito dei borghi Caltabellotta fa parte. Una ricostruzione immersiva ed esperenziale, dice Marco Savatteri, in un luogo unico scavato nella roccia, puntiamo sulla ricerca dell'antico e del vero. Nel presepe, infatti, saranno rappresentate le antiche tradizioni musicali, canti e novene recuperate da ogni parte della Sicilia e riportate in vita da attori e musicisti. In scena anche gli antichi mestieri con oggetti, costumi e azioni teatrali che convergono verso la natività, il tutto intrecciate in una drammaturgia composita ed armonica. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, dice il sindaco di Caltabellotta, Calogero Cattano, ci accingiamo ad offrire ai visitatori un'edizione speciale. Siamo contenti ed orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere quante più associazioni del luogo. Caltabellotta, con la sua storia, i suoi monumenti e le sue bellezze, sono certo saprà regalare magiche emozioni a quanti verranno a trovarci. Caltabellotta, città presepe, sarà anche l'occasione per assaggiare, oltre alle degustazioni all'interno del presepe, altri prodotti tipici del territorio. Nella piazza, antistante, l'ingresso al percorso sarà infatti allestita una piccola mostra a mercato con i giovani produttori che racconteranno le specialità della zona, olio in primis, ma anche formaggi e frutta.